Allora, un'altra tematica che creava un prima forione interessante che è da valutare, questo discorso che è ritornato in auscia della famosa quota 100, sembra che venga rivista che ci sia una via d'uscita diversa, luci e ombre anche qui, perché la razza era quella di consentire un turnover maggiore nel mondo del lavoro, dall'altro dare la possibilità a chi ha maturato un certo numero di anni lavorativi di uscire con minore impatto, però di fatto non ha avuto effetti sperati, ci sono dei numeri di spese pensionistiche impressionanti, il 17% del PIL, non sono buone le prospettive, cosa ne pensate? Allora, anche quota 100 è stata una risposta ideologica con valenza elettorale a un problema che in parte c'era, nel senso che la riforma Fornero che era indispensabile perché questa nazione non era e potrebbe non essere in grado di mantenere gli impegni che ha assunto con le persone che vanno in pensione, quest'anno è il 17% del PIL, in ulteriore crescita rispetto a prima, bisogna fare qualche cosa, piaccia o non piaccia bisogna fare. La riforma Fornero aveva impostato qualche cosa ma conteneva in sé un bacco di errore che era quello di aver lasciato per strada letteralmente moltissime persone che avevano un'età critica per la quale il giorno prima avrebbero potuto andare in pensione o comunque avere uno scivolo, il giorno dopo erano esclusi completamente dal mondo del lavoro. A quelle persone era dovuto dare risposte e soprattutto dare ristoro ai diritti che gli erano stati negati. Quindi invece che fare un quota 100 che era un qualche cosa che un po' abbindolava perché la Fornero è la peste e abbiamo detto, cosa avremmo potuto fare? Avremmo potuto dire ci sono 50 mila casi in Italia, questi li prendiamo in considerazione e mettiamo a posto queste situazioni. Ma la risposta è stata che progressivamente a scaglioni sono stati sistemati. Dopo? Ma nel frattempo avevamo fatto un quota 100 che di nuovo aveva creato aspettative perché uno sente dire potrò andare in pensione prima con piccole riduzioni, poi va dal consulente del lavoro, dal sindacato e vede che non sono proprio così piccole le riduzioni. Allora, numeri come al solito che vengono dai nostri studi di fabbrica Padova. Nel 2020 le richieste di pensionamento con quota 100 sono inferiori a quelle del 2019. Inoltre... Ma inferiori perché ci sono meno persone che hanno i requisiti? Perché ci sono meno richieste. Siccome è volontaria la cosa, ci sono meno richieste. Ci sarà un perché. Uno. Due. Sono stati creati. Cioè, le persone che hanno avuto accesso alla pensione in questo periodo potevano farlo attraverso quota 100 e attraverso i sistemi che c'erano già prima, quindi i 41 o i 42 anni di lavoro continuativo che consentivano loro di andare in pensione con piccole riduzioni. Allora, le pensioni che provengono dai due provvedimenti che c'erano già sono di molto superiore in numero a quelle che provengono da quota 100. E questa è un'altra spiegazione del fatto che questa cosa proprio così non funzionava. Aveva una valenza ideologica elettorale. Ma non è così che si può governare una nazione. Bisogna farlo in altri termini. Adesso probabilmente andrà a finire perché passano i tre anni e speriamo e ci auguriamo e spingeremo con tutte le nostre energie nella direzione di trovare soluzioni che non siano come questa. Voi che cosa chiedete al governo? Perché poi la cosa tocca direttamente i datori di lavoro. Anche relativamente all'aspetto fiscale, ci sono state delle istanze da parte degli industriali ben precise, vi convincono oppure no? Per quel che riguarda l'IRPEF, la pagata dei lavoratori, insomma ci sono un po' di richieste. Allora, se io volessi farmi applaudire a scena aperta dai nostri imprenditori e da tutti gli altri, direi che noi vogliamo soldi in qualche modo. Ma i soldi in una nazione bisogna che prima vengano creati e dopo possono essere utilizzati. Noi vorremmo per esempio che quella burocrazia tremenda che avevamo già prima, che adesso è diventata ulteriormente più pesante perché le regole sul mondo del lavoro hanno ridotto le loro funzioni, venisse alleggerita. Ma questi progetti disgravi anche nella pubblica amministrazione, lo speed, eccetera, non fatto che rende tutto molto più complicato perché... Abbastanza, perché non sono meccanizzati o digitalizzati a sufficienza e purtroppo le strutture burocratiche dello Stato, soprattutto, ma un po' di tutti gli enti, sono ancora troppo legate alle decisioni e alle scelte del singolo. Perché questa carta per venire validata deve avere un timbro, sia esso virtuale o di fatto, e questo timbro viene dal lavoro burocratico che c'è dietro a questo. Se questo lavoro burocratico è troppo complicato e in più adesso è rallentato perché ci sono tutti i limiti, non ne usciamo più. Chiaramente non è questa la sola richiesta, però è una provocazione un po'. Cioè lasciateci lavorare in semplicità e questa è una. Un'altra che viene ancora prima delle questioni IRPEF o delle tasse in generale è usiamo i soldi per far sì che gli imprenditori possano migliorare la qualità del loro lavoro e implementare il numero di persone da poter far lavorare. E torniamo al discorso del 4.0 di prima. Se io Stato do dei fondi perduti, quei soldi là vanno divisi a pioggia e sono piccoli rivoli. Se quei soldi io li uso per finanziare progetti che poi devono essere rigidamente controllati, di miglioramento delle pratiche, delle tecniche e delle attrezzature per la produzione di reddito, li uso bene perché? Perché per poter ricevere i soldi per comprare una macchina che migliora le mie prestazioni in azienda, io devo andare da qualcuno che mi fa una fattura, devo farmi fare un progetto da qualcuno che mi fa una fattura e tutto questo viene registrato e viene pagata l'IVA su questo. Quindi qualsiasi cifra venga messa a disposizione, non del 100%, anche del 60, 50, 40, quello che è, attiva una serie di comportamenti virtuosi che poi si risolvono per lo Stato, cioè per la comunità, in introiti che sono superiori a quelli che possono provenire da un fondo perduto e erogato senza nessuna finalità precisa. Quindi, relativamente al Recovery Fund che si parla, tra le tante strade proposte, perché sono delle proposte uscene, veramente sono proposte uscene di utilizzo di questi soldi, quale potrebbe essere una cosa utile? Perché tanti hanno detto, ma cercate di dare un supporto in qualche modo alle aziende, alle imprese, perché possono continuare a lavorare e quindi consentire ai lavoratori, invece di essere licenziati, finito il periodo di blocco dei licenziamenti, di ritrovare il posto di lavoro. Voi come la vedete? Senza ricorrere alla pioggia? Se ci sono dei soldi, e saranno tanti, devono essere utilizzati con progetti precisi, specifici, i quali devono tener conto di fondo del fatto che l'assistenza, anzi, l'assistenza anche dovuta è una cosa, il lavoro e la produzione di reddito che dà dignità al lavoro è un'altra. Questo è il punto sostanziale. Per cui, ridurre le tasse che devono pagare le imprese, se questa riduzione comporta una maggior possibilità delle imprese di crescere e migliorare, va benissimo. Se invece non dà questa opportunità, è una scelta sbagliata. Cioè, bisogna che lo Stato venga a dire all'Italia e agli imprenditori, ai sindacati e a tutti gli altri, il nostro progetto è questo, cosa ne pensate voi? E noi diremo, questo sì, questo meglio così, questo in un'altra direzione. Ma deve esserci un disegno. Però sono stati coinvolti gli imprenditori? O no? Sì, sono stati coinvolti fino a un certo punto. Tra l'altro poi noi abbiamo un certo strabismo in Italia per quanto riguarda l'attenzione data alle organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori. Perché abbiamo un'organizzazione enorme, piuttosto burocratica, e altre che sono più piccole, ma che sono molto più vicine alla realtà dei medi piccoli imprenditori, come noi, mica solo noi, ma anche tanti altri. Deve essere fatto un lavoro più in sintonia. Dopodiché le scelte sono politiche, le decisioni saranno politiche, ma più sarà ben fatto il progetto e il disegno del futuro che ha in mente questo governo, e meglio potranno poi essere dati tutti i contributi per far funzionare queste cose o, se possibile, per migliorarle. Assolutamente potente. Non ci sembra che al momento i segnali siano particolarmente entusiasmanti, ma noi siamo per profonda natura sempre ottimisti. Se avete la speranza, sempre speranza. Se no, non andremo tutte le mattine a rischiare e a far rischiare a tutti i nostri collaboratori il loro futuro. Lo stato attuale, il stato di salute delle aziende del territorio, qual è? Possiamo tirare una riga perché è passato il periodo del lockdown, è passata l'estate, si arriva in questo momento. Questa è una domanda difficilissima. Noi abbiamo fatto, due o tre mesi fa, una indagine presso tutti i nostri associati, che poi abbiamo presentato, mi sembra anche qua. Aveva dato dei risultati, ma ovviamente erano talmente vicini al periodo del covid che difficilmente si poteva avere una prospettiva. Adesso, entro questo mese, ne faremo un'altra di queste indagini per capire qual è lo stato dell'arte, ma ancora diventa difficile. Cioè, ancora non è possibile, perché strumenti sufficienti non ce n'è. È molto variegata. Ci sono aziende che sono in straordinario, diciamo così, aziende che sono molto in difficoltà. Dipende dai settori, dipende dalla propensione all'export, ma non solo. Dipende da tante cose. L'export tira. In certi settori molto, in altri di meno. Tutto quello che è legato all'automobile ha avuto dei rallentamenti. Però, per esempio, tutto quello che ha a che fare con l'alimentare, invece no, è andato molto meglio. È tanto variata sta cosa. Comunque, purtroppo, una delle cose che pendono con ombre nere sulla situazione è la tenuta che si potrà avere dopo la fine del divieto di licenziare. Che quindi arriverà a dicembre, se non sbaglio. E questo è un qualche cosa che bisognerà valutare e andare a monitorare sistematicamente con grande attenzione. Perché questo è un rischio reale. Certo che più avremo creato un quadro chiaro, trasparente e positivo, e meno questa cosa avrà delle conseguenze. Ma se invece noi continuiamo a descrivere tutto a tinte fosche, non appena ci sarà la possibilità, purtroppo, a malincuore, potrebbero esserci molte richieste di licenziamento. Vabbè, dopo una domanda relativamente a questo discorso dei non licenziamenti e della cassa integrazione. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.